Sei tavoli tematici che parlano degli anziani, anzi degli over 65, un po' a 360 gradi. Da come vivono la loro età della pensione, alla cura, all'assistenzialismo. Assessore, che cosa è emerso da questi sei tavoli? Stanno emergendo tante criticità, ma anche tante proposte. Chiaramente il tema trasversale fondamentalmente è il tema non solo della presa in carico delle persone non autosufficienti, ma anche il tema della solitudine, perciò di come fare per fronteggiare la solitudine, il senso comunque di sentirsi protetti e non solo la socializzazione e il fatto di poter accedere a tutta una serie di eventi anche culturali e di socializzazione. Un tema del quale posso fare l'esempio che è emerso importante è il tema del sostegno non solo alle persone anziane ma anche alle famiglie, perché spesso nelle famiglie, soprattutto quando si parla di non autosufficienza, c'è un senso di disorientamento su come muoversi in relazione all'anziano che cambia, ma anche in relazione ai servizi che vengono offerti sul territorio. E proprio per questo noi stiamo già partendo, sono aperte le iscrizioni, con un progetto che si chiama Al tuo fianco, dove assistenti sociali, infermieri, geriatri, tutti gli specialisti saranno a disposizione sui cinque quartieri per dare sostegno ai familiari. Questo è uno dei temi. Poi tanti altri temi stanno emergendo, ma soprattutto sul tema anche e soprattutto della socializzazione, di creare il più possibile forme di aggregazione.